Quello che noi dobbiamo pensare che sia una lezione da portare avanti è il fatto che il Covid in questo momento ci ha messo di fronte alla consapevolezza che esistono dei rischi invisibili che nessuno percepisce ma che il Covid in questo momento ha fatto emergere in maniera molto forte. Sono venute a mancare praticamente tutti quei riferimenti che hanno appalmato la persona della sua vita e specialmente queste persone come PCO ma in generale molte delle persone con malattie respiratorie hanno avuto il terrore specie chi aveva già avuto l'esperienza di insufficienza respiratoria, di ricoveri ospedalieri per cui sapevano benissimo a che cosa andavano incontro, hanno avuto ovviamente emozioni di terrore sia loro che i loro familiari per cui c'è stato anche bisogno di cercare di tranquillizzare. Questa pandemia ci ha fatto capire tante cose, a parte il dramma dei pazienti, la mortalità, io ricordo che ieri abbiamo passato 120.000 morti e se non ricordo male nella prima ondata ne abbiamo fatti 37.000, questo vuol dire che la seconda ondata ha significato più di due volte tanto il numero dei morti della prima, insomma quindi è stata un'esperienza drammatica. Adesso forse cominciamo a vedere la luce soprattutto se continueremo con questa campagna vaccinale, che sembra stia andando bene, però dobbiamo trarre esperienza da questa drammatica pandemia e ristrutturare la nostra sanità in maniera peguata.